Il gol di Castaldo a Frosinone ha rappresentato una liberazione sotto tutti i punti di vista. Era importante evitare la sconfitta, così come era ancora più importante tenere in movimento la classifica adesso che le piccole stanno cominciando a correre. Il punto per la squadra di Novellino rappresenta un motivo importante per stamparsi un bel sorriso sul volto. Il Matusa è un terreno di gioco che ha regalato pochissime gioie alle squadre che vi hanno messo piede. Poteva diventare impossibile in questa che diventa la fase cruciale della stagione, quella in cui si vola verso l'obiettivo. La rete di Castaldo invece ha avuto il potere di abbattere ogni paura e pensare di potercela fare in questo campionato fatto di risultati strabilianti e cadute rovinose. Neanche il tempo di festeggiare questo pareggio che sta di vittoria che l'avellino deve già badare al prossimo impegno, quello casalingo di sabato contro il Carpi. Altro avversario blasonato, altra squadra piena zeppa di campioni, altro scoglio da provare a superare per continuare la risalita. Ma a differenza della sfida contro il Frosinone c'è qualcosa in più che spinge la squadra a bianco-verde. C'è il partenio Lombardi. Lo stadio amico deve diventare il fortino giusto per non permettere alle avversarie di portare a casa punti. Insieme squadre e tifosi, un corpo unico. Da una parte i sostenitori, dall'altra un gruppo che ha riabbassato la testa per riprendere il lavoro e lo farà anche oggi, rigorosamente lontano da occhi indiscreti. Allenamenti a porte chiuse per Novellino, che intanto inizia anche a sorridere per una situazione legata agli infortuni che si fa sempre più rosa. La lista degli indisponibili si è ridotta al solo LASIC, ha recuperato anche Asma. Come detto, serve la mano di tutti, soprattutto di chi potrebbe risultare decisivo in questa fase dopo essere stato spettatore, ovviamente non per sua volontà.